Gli amici di PC questa mattina mi hanno segnalato un caso che oggettivamente è molto particolare. La signora ha avuto un'ordinanza, ha ricevuto un'ordinanza di sgombero di casa propria. Da dire che casa propria è ristrutturata ed è perfetta e l'unico, come dire, problema che ha è che è di fronte a una casa che è fatiscente. Quindi la signora dovrebbe abbandonare la propria casa solo perché di fronte alla casa propria esiste un fabbricato che oggettivamente rischia di crollare. Signora. Allora, siamo in via Costa. Praticamente c'è stata notificata della via Oblati, è una continuazione della via Oblati. Praticamente è stata notificata una cosa a me e ai miei figli in quanto proprietari di questo immobile. ristrutturato circa un dieci anni fa, di cui ancora io pago il mutuo. Vedo che la mia casa è perfettissima, io entro tranquillamente, non capisco perché da domani, prossimamente dovrebbe essere chiusa al traffico. Oggettivamente sarebbe opportuno più che altro cercare e trovare proprietari della casa fatiscente che rischia il crollo, ma evidentemente la signora non può piangere, come dire, colpe altrui. Io stavo leggendo questo documento e sono basito perché, guarda caso, siamo a pochi centinaia di metri dall'arco di Calafato. Qui c'è scritto, ai fini cautelativi delle unità immobiliari fabbricate urbane ubicate in via Costa, Civico 2 e Civico 4, di proprietà della signora e del figliolo, eccetera. E poi avverte che il mancato intervento di messa in sicurezza dell'unità immobiliare si tende a crescendo via Costa 1, che sarebbe l'immobile frontale, che non c'entra niente dal punto di vista, diciamo, della responsabilità. In atto è causa dello sgombero cautelativo degli occupanti residenti dell'immobili posto di fronte. Il cittadino fa tanto per ritornare a vivere al centro storico, perché il centro storico è bellissimo, ma il centro storico ti caccia a causa delle abitazioni abbandonate e fatiscenti. La gente investe i propri risparmi di una vita per venire ad abitare le proprie radici e questo non ti viene consentito perché, per colpa di altri, incolpevolmente la signora Maria è costretta ad abbandonare la propria casa.